Avanza sfrenata. Di notte la cattiveria della città si narca come una gatta selvaggia. Quattro giovani cospargono un barbone di benzina e gli danno fuoco. La cattiveria avanza sfrenata sui poveri vestiti. Le fiamme e il dolore camminano appaiati. Dopo pochi minuti il petto ed il viso del barbone sono devastati. Domani nei media ci saranno quelli che ne parlano e quelli che parlano di chi ne parla. Commento. La cattiveria del nostro tempo è la nostra cattiveria, quella di chi scrive queste note e di chi le legge, anche se mai nelle loro vite hanno fatto un gesto simile. Noi tutti viviamo le esperienze collettive che la media evolutiva dell'umanità è capace di creare e percepire. Anche noi che ci riteniamo innocenti abbiamo bruciato quel barbone.